Ciao ragazzi, mi chiamo Stefano e ho conosciuto Only One attraverso internet perché ero in cerca di una sfida, una sfida in primis chiaramente con me stesso. Devo essere sincero, è stato un momento entusiasmante perché ho avuto la possibilità di capire cosa migliorare di me stesso e della mia personalità. E' chiaro, è un percorso che richiede del tempo, ci vuole del tempo, ma iniziare con tre settimane in quale è stato inizialmente il mio percorso è stato un momento molto importante per me. Tanto che col tempo oggettivamente vedi frutti perché finalmente posso porre, o meglio cercare di concentrarmi più che altro con quelli che sono i miei obiettivi, ora chiaramente questo riguarda tutti i lati della mia vita, cercare di concentrarmi al massimo su questi miei obiettivi avendo la consapevolezza che ce la posso fare, che tutto è nelle mie mani e che aspetta solo a me tirare fuori il meglio di me stesso. In termini di risultati che ho ottenuto posso ritenermi soddisfatto perché lungo il percorso ho avuto la possibilità di poter conquistare donne che finalmente mi piacevano veramente e cercare poi comunque attraverso anche nuove sfide di poter migliorare anche quelli che sono i risultati che ho ottenuto. I risultati tra gli altri che ho ottenuto è quello di aver migliorato la mia comunicazione soprattutto poi con ragazze che effettivamente mi piacevano perché ho capito, insomma ho imparato col tempo che non c'è niente di male parlare con ragazze che per me, per me chiaramente è soggettivo, possono essere particolarmente belle e io devo ringraziare oggettivamente OnlyOne per le sfide che mi ha consentito di poter affrontare e ve lo consiglio, ve lo avete la possibilità di poter prima di tutto conoscere alcuni aspetti di voi stessi e soprattutto qualora sia necessario capire cosa deve essere migliorato, col tempo ovviamente si raggiungono i risultati che potrete chiaramente, insomma che sperate. Ciao ragazzi, ciao Anton, ciao Ciao Antonio